Amici di Esco a Correre, ben ritrovati! Questo è un video velocissimo, giusto per rassicurare molti di voi. Come sapete io il 2 di febbraio ho fatto la mezza delle due perle e purtroppo c'è un ragazzo che ha fatto appunto la mezza delle due perle ovviamente lo stesso giorno, che è risultato positivo al coronavirus. Purtroppo è in gravi condizioni, da quello che sappiamo è ricoverato in un ospedale a Milano, se non ricordo male e ovviamente molti di voi sono preoccupati sia per le mie condizioni perché anche io ho partecipato a quella gara ma sia anche magari per altri atleti che hanno partecipato il 2 di febbraio alla mezza delle due perle. Beh, questo video è semplicemente per rassicurarvi perché è vero che sono uscite tantissime notizie legate appunto al fatto che questo ragazzo avesse corso la mezza delle due perle e quindi che ci fosse una possibilità, un rischio di contagio ma in realtà sono uscite anche notizie confortanti soprattutto ufficiali da parte dell'ASL che dicono di stare assolutamente tranquilli perché appunto la gara era il 2 febbraio e il virus può essere incubato solo per 14 giorni in poche parole probabilmente il ragazzo non era neanche malato in quel periodo lì ma anche se lo fosse se non avete i sintomi appunto del coronavirus ormai il tempo limite è passato quindi non c'è rischio di contagio infatti l'ASL ha fatto uscire un comunicato ufficiale dicendo a tutti di stare assolutamente tranquilli perché in quella gara sicuramente non c'è stato nessun contagio quindi questo è sicuramente rassicurante ovviamente il mio pensiero va assolutamente a questo povero ragazzo che è un atleta come noi che appunto è in grave condizioni ricoverato in un ospedale preghiamo sicuramente per lui speriamo che possa guarire al meglio sicuramente c'è molta preoccupazione per questo virus per me soprattutto che vivo qua a Londra che è una metropoli, una città enorme dove i contatti con la Cina purtroppo sono tantissimi e quindi inizio anch'io ad avere francamente un po' di paura però attenzione a non creare allarmismi attenzione a non esagerare la percentuale di contagio è sicuramente ancora molto bassa bisogna però stare attenti e per noi atleti, per noi runner che saremo impegnati nei prossimi weekend in gare importanti mi viene in mente la Roma Ostia che è tra poco il 6 di marzo a cui io participerò sicuramente bisogna stare un pelino più attenti adesso sinceramente non so neanche come probabilmente durante i miei viaggi e spostamenti in aereo probabilmente inizierò ad indossare una maschera e ad stare un pochettino più attento quello che vi posso consigliare, quello che ho imparato appunto leggendo altre notizie è che bisogna lavarsi spesso le mani stare attenti a persone che stanutiscono perché questo è un virus che si contagia appunto per via aerea sia per mucosi ma anche per una piccola percentuale di saliva per poter trasmettere il virus quindi un minimo di attenzione in più sicuramente non dobbiamo creare troppi allarmismi non ci deve essere psicosi non dobbiamo entrare troppo in allarme ma sicuramente stare un pochettino più attenti e nelle gare con tanta gente appunto come la Roma Ostia il 6 di marzo stiamo un pochettino più attenti ecco tutto qua magari cerchiamo di non avere contatti troppo ravvicinati per quanto possibile un'altra cosa, un'altra informazione non è vero che la Roma Ostia è stata annullata perché ho letto anche questo su qualche gruppo facebook che seguo per ora la gara non è stata annullata ci sono degli eventi che sono stati annullati in Lombardia e in Veneto dove c'è un po' il focolaio della coronavirus in Italia però la Roma Ostia per ora non è annullata è ovviamente tra un paio di settimane quindi tutto può ancora succedere speriamo che vengano prese sicuramente le decisioni giuste quindi che ci permettano di correre in totale sicurezza ma spero anche da un altro punto di vista che la gara non venga annullata perché sarebbe veramente un peccato però è ovvio meglio annullata che dover correre rischiando di ammalarsi di un virus che ahimè purtroppo sembra molto aggressivo un'altra nota perché ho un po' inizio ad avere un pochettino paura di questo virus perché all'inizio si diceva che questo era un virus comunque abbastanza normale nel senso che il tasso di mortalità era appena del 20% e quindi diciamo che chi effettivamente arrivava ad ammalarsi e poi anche a morire per colpa del virus erano solo le persone che erano comunque già in condizioni critiche che probabilmente sarebbero morte anche con un'influenza normale se possiamo così definirla ma in realtà non è così perché questo ragazzo di 38 anni è descritto come un atleta di buon livello è sia un runner come noi ma anche un calciatore tutti i weekend faceva sport ed è anche una persona estremamente in salute insomma un fisico di una persona che sta bene e però è appunto in condizioni gravi quindi questo mi fa pensare che probabilmente le informazioni che ci stanno dando non sono poi così realmente definite proprio perché appunto questo virus arriva dalla Cina e come sapete in Cina c'è tanta censura comunque questo non è per mettervi preoccupazione ma semplicemente per ricordarvi appunto che questo è comunque un virus potenzialmente letale e quindi dobbiamo stare un pochettino più attenti comunque io sto bene a parte un po' di raffreddore però assolutamente non da preoccuparsi sono appena tornato da Bruxelles che faceva abbastanza freddo e ho corso un po' di clima mentre al freddo quindi ho semplicemente un po' di raffreddamento però sto assolutamente bene se avete corso la mezza delle due perle non preoccupatevi non correte a fare i test perché non c'è assolutamente bisogno però stiamo tutti in allerta ragazzi farò un altro video dopo perché ovviamente questo era semplicemente un video per aggiornarvi sulla situazione ma c'è un piano editoriale da rispettare e qua si va avanti e soprattutto adesso vado ad allenarmi ci vediamo dopo ciao